Filippo, partirei dal gol che ha deciso la partita di lunedì sera e insomma toglici il dubbio. Quella palla lì c'è andata perché ci doveva andare, perché gli dei del calcio hanno deciso così o insomma la volevi mettere proprio all'incrocio? Ma diciamo che il mio obiettivo era quello di calciare verso la porta. Quindi insomma, sono contento sia andata così. E quello che voglio dire è che comunque non volevo crossare, quindi è andata bene e la cosa più importante erano i tre punti e quindi ce li teniamo stretti. Però credo che per te sia stato un gol che ha significato molto, no? Lo testimonia anche quella corsa verso la sud per andare ad esultare? Sì, assolutamente perché ce lo meritiamo noi con tutti noi ragazzi e stiamo lavorando tanto per cercare di raccogliere sempre il più possibile e anche per tutta quella gente che ci segue in casa, che ci segue in trasferta, se lo meritavano. Quindi insomma è stata una liberazione per tutti e tre punti che comunque abbiamo sofferto e ce li siamo guadagnati sul campo. Menti Braglia ha detto alla fine, riferendosi a indiani, ha avuto culo stavolta, no? Che difficoltà avete trovato in una partita che nel secondo tempo forse è stata tra le più complicate in questa stagione? Diciamo che il girone non ti permette di rilassarti neanche un secondo. Qualsiasi squadra incontri è una squadra tosta e il secondo tempo contro il Gubbio è stato comunque un secondo tempo difficile ma come tutte le partite quindi sappiamo che dobbiamo soffrire tutte le partite e se vogliamo portare a casa i tre punti bisogna dar sempre qualcosa in più. Di 14 punti dopo 11 giornate, da questo punto di vista direi che il bilancio può essere positivo. Che cosa manca all'Arezzo, ti chiedo, per fare quel piccolo salto di qualità e rimanere in quella zona di classifica e trovare continuità di prestazioni e di risultati? Noi cerchiamo di lavorare sempre tutti i giorni sul campo, cerchiamo di dare il massimo e quindi cerchiamo sempre di fare i tre punti sul campo. Poi se non dovessero arrivare noi dobbiamo uscire dal campo senza recriminarci nulla. Quello è l'obiettivo principale che ci diamo prima di entrare in campo. Se noi diamo tutto dopo non possiamo recriminare niente. Ti sei l'unico in questa stagione che hai riuscito a segnare partendo dalla panchina. Ti è successo due volte. Te lo chiedo per sottolineare questo dato statistico ma anche perché forse manca all'Arezzo un apporto incisivo anche da chi subentra in un campionato così equilibrato. Parlo dal punto di vista offensivo ovviamente. Io penso che chiunque stia entrando sta dando comunque il massimo per la squadra. e questo fa capire che comunque siamo tutti importanti in questa squadra soprattutto chi entra nella panchina perché comunque in Rosa non siamo 11, siamo 25, 26 quelli che siamo e chi viene chiamato in causa sta facendo bene e dà sempre qualcosa per la squadra. Quindi siamo un gruppo unito, siamo un gruppo che deve continuare sempre dalla stessa parte e l'unica cosa che voglio dire è che quando veniamo chiamati in causa 5, 10, 15 o 20 minuti bisogna sempre dare il massimo come stiamo facendo. Quindi volevo fare comunque i complimenti ai ragazzi per la partita di domenica perché chiunque è entrato ha fatto comunque bene. Da un punto di vista personale sei contento di questo avvio di stagioni al di là dei due gol per tutto quello che sei riuscito a dare o per quello che ancora non hai dato alla squadra? Che bilancio puoi fare Filippo? Io sono sicuro di poter dar tanto a questa squadra quindi poi le scelte le fa il mister io le rispetto senza problemi che siano come ho detto prima 10, 15, 5, 2 o dall'inizio io mi metto a disposizione della società, della squadra e dei ragazzi e do sempre il massimo e quello che sto facendo è proprio questo quindi non mi posso recriminare nulla se non uscire dal campo e dire oggi ho dato tutto. Un'ultima cosa sulla trasferta di Pesaro che sarà una partita ostica perché poi la Vis è una squadra di categoria come sono tutti abbiamo detto in questo girone ti chiedo cosa manca all'Arezzo per trovare il cammino giusto di qui alla fine? Ma cosa manca non posso saperlo nel senso noi ci mettiamo a disposizione del mister cerchiamo di lavorare tutti i giorni e cerchiamo di dare il massimo vogliamo anche noi cercare di dare continuità ai risultati e speriamo di riuscirci già da domenica e speriamo di riuscirci già da domenica e speriamo di riuscirci già da domenica